Oggi vado a sostituire la sella che è uscita di serie dalla iBikeMovie, una sella che ho acquistato alla Lidda un po' di tempo fa, verso giugno. E' una sella Made in Germany tedesca, dovrebbe essere più comoda per me che non vado tanto indici, non sono un professionista, comunque questa rimane una bella sella secondo me, però voglio provare questa. Unica cosa, come potete vedere, è piccolo l'attacco, quindi semplicemente a me va smontare questo pezzo e monto tutta la sella su questo. Quindi semplicemente, adesso clicca la ritrangente prima. E ora cominciamo ad andare a smontare questo pezzo, vado. E ora cominciamo ad andare a smontare questo pezzo. cominciamo ottenendo questo pezzo, Ok, sono due notici Aspera no Ok, dovrò solo fare una pizzerina sulla bici, che sarebbe a distanza. Perché in realtà anche prima non l'avevo regolato, l'avevo lasciata così, come l'avevo messa loro. Ok, per ora questo non lo fisso, voglio vedere se il selino va bene. Questo è tutto, vi ringrazio l'attenzione, ci vediamo al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.